Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video Voi l'avete scelto e quindi io lo faccio Oggi vi porto il frase che tutte le ballerine odiano sentirsi dire dalle proprie insegnanti Dato che però su youtube era arrivato secondo e su instagram aveva vinto con tipo due voti di scarto da questo La prossima settimana avrete anche il come migliorare velocemente a danza Quindi non disperate, state tranquille, ve lo porto Ora iniziamo con il video ma state ben attente perché alla fine del video vi chiedo di commentare con qual è la frase che odiate di più E se me ne sono dimenticata qualcuna mi raccomando commentate anche con quelle che mi sono dimenticata così magari farò la parte 2 Bene, vanno alle ciance e iniziamo con il video Perfetto ragazze, ora rifacciamo tutto l'esercizio a sinistra Bene ragazze, ora rifacciamo tutta la coreografia Però questa volta senza specchio Domani ragazze c'è lo spettacolo Mi raccomando non fatemi fare brutte figure Oh scusate ragazze, ho una telefonata urgente Io esco un attimo ma voi mi raccomando continuate l'esercizio Pronto? Eccomi ragazze Bene, allora rifate l'esercizio perché non mi ho visto Ok ragazze, ora passiamo all'adagio Bene ragazzi, ora facciamo un po' di addominali che ne abbiamo bisogno Ma che siete già stanche? Bene, il video è finito, se ti è piaciuto lascia un po' di ciò in su Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto Condividi questo video con tutti i tuoi amici e tutte le tue amiche di danza Ma anche con tutte le tue insegnanti di danza Per far sapere che anche tu odi queste frasi Ti ricordo di commentare con la frase che odi di più Perché ce ne sarà sicura qualcuno che odi più delle altre E con le frasi che odi e mi sono dimenticata Se ti va puoi seguirmi sui miei social Sono molto attiva su TikTok e Instagram dove mi chiamo Illy Dancer Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!